segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io continuo ad essere dell'idea che questi questa attribuita in volontà di conquistare il Donbass per ammettere magari va bene anche di prenderlo per carità ma non sia sostanzialmente il suo scopo perché diciamo di posti non particolarmente come dire attraenti ne ha già a bizzeffe nella russia diciamo una federazione russa non è che ha bisogno del carbone del Donbass o dell'acciaieria di non so che per passare da una condizione di paese economicamente del terzo mondo allo sviluppo spettacolare dell'economia questo è il Donbass come l'Ucraina sono stati un pretesto pretesto per dimostrare che che con le sue maniere di prepotente bisogna fare i conti devono fare i conti non soltanto gli ucraini ma soprattutto altri che stanno al di là del confino ucraino cioè gli americani e anche gli europei che vengono un po' al morchio per cui il suo scopo è quello di ottenere una dimostrazione delle possibilità della sua forza distruttiva usando ahimè gli ucraini come come incudine su cui schiacciare il martello delle sue armate magari non efficientissime ma terrificanti nel suo nel loro potere annientatore e chiedere di sedersi ad una alla pari con gli altri ad un tavolo di il donbass o comunque la guerra in ucraina nello specifico parlavamo del donbass grazie grazie grazie